La stampa per spiegare, per fare in modo che passa il vero messaggio di cosa vuole essere l'Officine Lugna, quindi nel ringraziare gli intervenuti, gli amici, simpatizzanti, certi candidati, chi già sta sostenendo la nostra battaglia, le nostre posizioni e quella che sarà sicuramente una grande avventura che ci vedrà tutti quanti insieme, mi ringrazio in particolar modo la stampa che ha voluto dare lusso a questa iniziativa. L'Officine Lugna nasce per esigenza di quelli che sono i partiti di centrodestra, nasce con l'esigenza di creare un luogo, un posto, un'officina dove noi da buoni, da bravi operai e artigiani della politica vogliamo creare un programma di governo, un programma elettorale che ha l'ambizione con il consenso dei cittadini di Mugnano di diventare un programma di governo della città.